Questo è un momento storico che va immortalato, la riconquista della scuola, gli studenti riconquistano la scuola che era stata loro sequestrata, altro che Forte Alamo, Forte Apache, quella dopo perché poi quando andrò in pensione potrò rivedermi questa magica giornata di riconquista della scuola, va festeggiata, aspetta così, non devo usare quello. Allora, congresso nazionale dell'associazione donatori di seme, il presidente ringrazia dicendo benvenuti al congresso nazionale dell'associazione donatori di seme. Questa è una battuta, è una battuta liquida, sapete che viene teorizzata la società liquida, Bauman, la società liquida, ebbene, nella società liquida si fanno battute liquide, sapete perché, questa la sapete, vediamo se siete preparati sulle battute dell'anno scorso, perché Batman è il supereroe più spiritoso? Perché ha sempre la battuta pronta! Un più anni, più anni, no, a proposito di battute di ritrovamento, beh, allora forse quella ve l'avevo detto, quella delle casse forti che si incontrano dopo tanto tempo, che bella combinazione! E quella dei pescecani che si incontrano dopo tanto tempo? Eh, ma non sei invecchiato per niente, ma nemmeno tu, ma siamo proprio rimasti tali e squali! Coraggio, coraggio! Allora, per concludere questa introduzione, anche per questo ho fatto accendere il computer, ci vorrebbe un inno, sarebbe bellissimo l'inno alla gioia di... Sapete che è l'inno dell'Unione Europea, sapete che è l'inno ufficiale dell'Unione Europea? Ma non lo sappiamo, non lo sappiamo! Quindi cosa cantiamo? Fratelli d'Italia! Fratelli d'Italia! Chi è il più intonato di voi? Io sono... Anita Garibaldina! Anita Garibaldina! Ma lo sapete il testo? Sì! Dai, allora... Fratelli d'Italia! L'Italia si è destra, dove la vittoria le forga, la chioma che schiava di Roma, e Dio la creò! Paravan, paravan, pa 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 pa! Stringiamoci a corte, a corte, siamo pronti alla morte! Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte! Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte! Siamo pronti alla morte! L'Italia si è destra!